Il corpo di pulizia locale giarrese è al collasso tra carenza di organico, auto di servizio in avaria, impianti di videosorveglianza dinamica disattivati e ancora appena otto agenti destinati al controllo della viabilità suddivisi in due turni quotidiani in una città di circa 30.000 abitanti. Alessandro Spina, dirigente provinciale di Will Funzione Pubblica, agente in servizio nella pulizia municipale giarrese, ammette le difficoltà di un corpo ormai ridotto all'osso che non riesce a gestire neppure l'ordinario. Facciamo quello che possiamo tra molteplici difficoltà, è necessario afferma migliorare soprattutto l'organizzazione dei turni di servizio del lavoro. In due turni quattro agenti, di cui due addetti al monitoraggio del centro storico, altre due unità, sono invece destinate al pattugliamento del territorio e un piantone invece che rimane in centrale. Tutto questo ovviamente al netto di interventi extra, tra cui incidenti stradali oppure emergenza di altra natura come i TSO. Le stesse auto di servizio sono poche a fronte di un parco mezzi ridotto a lumicino per via di tre vetture guaste e inutilizzabili. Complessivamente sono appena quattro, sono decine le auto di servizio che possono essere impiegate nelle attività di pattugliamento del territorio comunale. Il rappresentante sindacale Spina poi non nasconde le difficoltà anche sotto il profilo organizzativo. La nostra centrale operativa ad esempio non ha il sistema GPS funzionante, con il risultato che le auto in servizio non possono essere localizzate durante i turni di servizio, mettendo peraltro a rischio anche gli stessi agenti, soprattutto in caso di emergenza. Tornando alle risettezze d'organico, Spina poi aggiunge che durante i turni di lavoro gli agenti della Polizia Municipale Gerrese non riescono a riposare neppure nei termini previsti dalla legge, ovvero una volta alla settimana, mentre in realtà il riposo, almeno 15 volte all'anno, avviene ogni due settimane. C'è poi il capitolo della sicurezza. La gestione della videosorveglianza funziona soltanto parzialmente. Molte telecamere posizionate nei punti strategici della città sono infatti disabilitate addirittura in attesa di essere manutenzionate. Sul fronte viabilità e impianti semaforici di ieri la notizia che a partire da questa mattina saranno riattivati finalmente i semafori posti all'incrocio tra le vie Calipoli, Meli, via Luigi Pilandello e via Turati. Il sindaco Angelo Danna, infatti, d'intesa con la giunta comunale e la competente commissione del consigliare, ieri ha dato mandato perché venga utilizzato un vecchio piano redatto durante la sindacatura di Giuseppe Toscano. È necessario, secondo il sindaco Danna, adeguarlo comunque alle esigenze attuali in sicurezza con l'obiettivo principale di rendere più scorrevole il traffico urbano a Giarre.